Salve, mi chiamo Alessandro Rosi e suonerò il primo movimento del concerto per tromba di Haydn. Il primo movimento del concerto per tromba di Haydn. Il primo movimento del concerto per tromba di Haydn. Il primo movimento del concerto per tromba di Haydn. Il primo movimento del concerto per tromba di Haydn. Il primo movimento del concerto per tromba di Haydn. Il primo movimento del concerto per tromba di Haydn. Il primo movimento del concerto per tromba di Haydn. Il primo movimento del concerto per tromba di Haydn. Il primo movimento del concerto per tromba di Haydn. Il primo movimento del concerto per tromba di Haydn. Il primo movimento del concerto per tromba di Haydn. Il primo movimento del concerto per tromba di Haydn. Grazie a tutti. Grazie a tutti.